Lucia, io inizio questa intervista facendo i complimenti a te e a tuo fratello per questo video. Un video che ci riporta nel pieno della nostra tradizione mariana, che inizia con la calata del quadro e finisce poi con il quadro che viene riposizionato nella cappella, privilegiata nella sua cappella. Volevo dirti, ecco, come nasce questa idea del video? Il video è nato dalla voglia di recuperare quella che è la memoria di un tempo forte per la città di Crotone che vede ruotare un anno da una festa della Madonna di Capoloccolonna all'altra che segue nell'anno successivo. L'inizio è una fine di un arco temporale che parte da una festa e si chiude in una festa. Quindi non potevamo far finta che anche quest'anno il ritmo non fosse questo. Lo sai che questo video ha fatto commuovere tutti e ti dico sinceramente, mi fa piacere di averlo inserito nei nostri TG perché comunque il popolo mariano è il popolo mariano. Il video credo sia arrivato un po' a tutti perché ha rintracciato, ha inseguito il filo dell'appartenenza ad un unico culto, ad un'unica terra, una terra tra l'altro in grande affanno per la pandemia. Un affanno che si profila soprattutto di carattere economico. I crotonesi, come al solito, quando sono in affanno chiedono aiuto alla loro madre. È sicuramente una festa della Madonna particolare quella di quest'anno. Non avremo la possibilità del pellegrinaggio, ma dobbiamo utilizzare tutti i sistemi, dalla televisione ai social, ai video, a tutto ciò che si può fare proprio perché abbiamo bisogno di questo tuffo nella nostra storia. Credo che questo sia stato un anno del tutto particolare, un'opportunità del tutto particolare. È vero che la festa non è la solita, niente fiere, niente giostre, niente burattini, niente teatro, teatrino in piazza Pitagora. Nulla di tutto questo. Però il tempo che stiamo vivendo ci ha permesso di scendere in profondità rispetto alla nostra relazione con Dio e con la Madonna. Credo che l'approccio sia diventato decisamente più maturo perché questi sono giorni in cui tutto ciò che non è essenziale è andato via. Sono rimaste le cose che contano e tra queste sicuramente un bisogno di appartenenza, un bisogno di difesa, un bisogno di sentirsi amati.